Iniziamo a scoprire un nome, il nome di primo piano della letteratura italiana, direi proprio l'autore più conosciuto nel mondo, ovvero Dante Alighieri, che è noto per aver scritto la Divina Commedia, che lui si limitò a intitolare Commedia. Il Divina è un aggettivo che ormai è diventato tradizionalmente accompagnato al titolo, ma è di Boccaccio, che è stato un altro scrittore che scopriremo quest'anno, il primo a fare gli esempi di letture pubbliche della Divina Commedia per tutti gli interessati. Le letture d'Antis ancora oggi si fanno alla società dantesca italiana che si trova dietro Orsan Michele, se andate in centro e passate per via Calzaioli a un certo punto vedrete appunto Orsan Michele, che era l'antico granaio di Firenze, e dietro c'è uno stabile che è proprio collegato da una specie di struttura architettonica a Orsan Michele, ed è la sede della società dantesca italiana. Ancora oggi si fanno le letture d'Antis lì. E poi le letture d'Antis, voi sapete che c'è un personaggio che le ha rese famose anche in televisione, magari qualche volta avete visto Roberto Benigni di reclamare dei canti della Divina Commedia in televisione, oppure nella nostra città ha fatto questo spettacolo pubblico di lettura di canti della Divina Commedia, che poi lui reclama a memoria, a Santa Croce. Santa Croce, chiesa bellissima, bellissima chiesa che si trova appunto nell'omonima piazza, che nella parte destra della facciata presenta appunto la statua di Dante Alighieri. Comunque, Dante Alighieri impareremo a conoscerlo partendo da un sonetto giovanile molto carino, molto facile, che è contenuto in un libro, in una raccolta di rime di Dante Alighieri, perché come vi ho detto ha fatto molte altre opere, oltre alla Divina Commedia, che è il suo capolavoro. Dante Alighieri è nato a Firenze nel 1265, dalle parti della Badia Fiorentina. Non a caso il museo di Dante hanno deciso di farlo in delle case che sono proprio dietro la Badia Fiorentina, anche se non è certo che lui abbia abitato veramente lì. Aveva una famiglia che gli ha consentito di studiare, era particolarmente versato per gli studi. Da ragazzo era amico di un poeta che era un pochino più grande di lui, che abbiamo già iniziato a conoscere, Guido Cavalcanti, che viene citato anche all'interno di questa poesia che farei. e in breve inizia a scrivere, appunto, poesie, sonetti, anche di corrispondenza con altri poeti, e poi scrive un'opera giovanile intitolata La Vita Nova, che è un prosimetro, cioè un'opera che mischia prosa e poesie, e praticamente racconta la storia di lui stesso, che si era innamorato di una giovane ragazza che si chiama Beatrice, e all'interno di questa storia in prosa ci sono le poesie che contrappuntano questa storia d'amore, che non è alliato fine, chiaramente. Poi, nella parte centrale della sua vita, scrive molti libri, la Divina Commedia, prima di tutto, a cui inizierà a lavorare più o meno a metà vita, intorno al 1300, e anche il De Vulgari Eloquenza, che è un trattato sulla lingua, il De Monarchia, che è un trattato politico, e delle epistole, tanti libri, insomma, è anche impegnato nella vita politica del suo paese, però a un certo punto, proprio per motivi politici, deve andare in esilio. Non a caso lui passa tutta la sua vita adulta, dai 35 anni in là, fuori da Firenze, passando, lui che era un intellettuale parecchio famoso, alle corti del nord, che gli davano ospitalità, come per esempio a quella di Can Grande dalla Scala, a Verona, e muore a Ravenna nel 1321. Iniziamo a conoscere quindi questo poeta straordinario, che è, diciamo, importante anche a livello iconografico, perché, come dire, è noto il suo ritratto con Nas Aquilino, questa cuffia rossa, e l'alloro, chiaramente, cinto d'alloro, che è un simbolo di gloria poetica. La poesia, che adesso scopriremo, si intitola Guido, io vorrei che tu è l'apo e Dio. E non ha, essendo un sonetto, non ha, ovviamente, il titolo, si prende per convenzione il primo verso. Come vedete, si tratta di un sonetto che presenta uno schema metrico ABBA, quindi rime incrociate nelle quartine, ABBA, e poi C, D, E, E, D, C. Ok? E quindi presenta le terzine che sono invertite. Dunque, prima ve la declamo e poi ve la spiego brevemente. Guido, io vorrei che tu e l'apo e io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel, cad ogni vento, per mare andasse al volo il vostro e mio. Sì che fortuna, o d'altro tempo rio, non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E monna vanna e monna l'agia poi, con quella che è sul numero delle trenta, con noi bonesse il buono incantatore. E qui vi ragionar sempre d'amore e ciascuna di l'orfos se contenta, siccomi credo che saremmo noi. È piuttosto semplice, però ci sono delle parole un po' difficili. È una poesia di chiaro impianto, di chiaro afflato, stilnovista. Ci sono varie tematiche, diciamo, consonanti con questo movimento letterario. L'amicizia e poi l'amore. Il tema del plazer, che è un tema provenzale, il tema del piacere, il luogo del piacere. E poi ci sono dei piccoli riferimenti anche al romanzo arturiano, perché a un certo punto c'è un richiamo abbastanza velato al mago Merlino. E ovviamente l'amore, perché l'amore poi è l'argomento che collega tutte queste tematiche. Allora, come vedete, fin dall'inizio si comincia con un'invocazione. Guido, io vorrei che tu e il Lapo e Dio. Guido è l'amico Guido Cavalcanti, poco più grande di Dante. E come viene detto nel primo verso, insieme a Dante e Guido Cavalcanti c'è anche questo Lapo, che non è un Lapo qualunque, ma è il Lapo Gianni, con cui si conserva una corrispondenza poetica tra Dante e Lapo Gianni. Quindi questo trittico d'amici. Lui quindi invoca Guido Cavalcanti e dice Oh Guido, questo è un vocativo, io vorrei che tu, insieme a me e Lapo, fossimo presi per incantamento, cioè per magia, e messi in un vascello, una nave, una barca. Che ad ogni vento, per mare andasse, al volo è vostro e mio. Quindi si tratta di una specie di vascello magico, perché dovrebbe andare spinto dal vento dove vogliono loro, no? E invece non è così. In realtà, se devi dirigere una nave, devi prendere il vento e direzionare il timone. Invece questa sembra una nave magica che va dove vogliono loro, i tre amici, tema dell'amicizia. E poi spiega meglio questo concetto. Sicché fortuna, quindi il tempo fortunato, il tempo buono, o altro tempo rio, cioè il tempo cattivo, non ci potesse dare impedimento, che quindi noi non avessimo il limite di cercare il tempo favorevole o no per navigare. Anzi, vivendo sempre in un talento, cioè in una stessa, diciamo, con lo stesso intento, con gli stessi obiettivi, gli stessi desideri, di stare insieme crescesse il disegno. Anzi, siccome noi possiamo fare quello che ci va, di stare, fossimo più felici di stare insieme, anzi, aumentasse il desiderio di stare insieme. E poi nella prima terzina aumenta il concetto. E poi dice, e Monna Vanna, e Monna Lacia voi, quindi lui si augura che con loro ci potrebbe essere anche Monna Vanna, che era la donna amata da Guido Cavalcanti, e Monna Lacia, che era la donna amata da Lapo Gianni, con quella che è sul numero delle trenta. E questa è un'allusione, no? Perché chi è quella che è sul numero delle trenta? Pare sia un'allusione a una lista di donne, delle donne più belle di Firenze, che era stata compilata all'epoca, e quindi lui sa a chi si sta riferendo, ok? È un'allusione alla donna che ama ovviamente Dante, che però non dice chi sarebbe esattamente, con noi ponesse il buono incantatore, cioè il mago buono, che sarebbe un'altra allusione al mago Merlino, che è il mago positivo dei romanzi di Re Artù e dei Cavaliere della Tavola Rotonda, no? E qui, cioè in questa barca diretta verso il luogo del piacere che loro vogliono raggiungere, ragionare sempre l'amore. Quindi c'è il ragionamento dell'amore, che è il tema per eccellenza del movimento stilnovista, e ciascuna di loro fosse contenta, cioè di queste tre ospiti amate dai tre poeti, siccome io credo, siccome penso, che saremmo noi, per forza. Sono i tre migliori amici, con le tre donne che amano, sono diretti su una nave magica nel posto dove saranno felici e parleranno d'amore, chi sta meglio di loro? Mi chiedo io. Poesia molto semplice e molto, molto carina. Spero che vi sia piaciuta. È la nostra prima poesia dantesca. Grazie. 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 Grazie.